Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 maggio. Ho preso un po' di tempo per capire se magari in queste ore Mattarella avesse preso il coraggio di dare un governo a questo paese, come è detto, neutrale. Eppure sono 11, quasi mezzogiorno, ancora non c'è un governo dopo 65 giorni in Italia. Ci sono due ipotesi sul tappeto, come c'è scritto su tutti quanti i giornali oggi. L'ipotesi, quella più verosimile, è quella del governo neutrale. Dice giustamente il fatto quotidiano, in questo sono d'accordo con loro, ma neutrale dei che? Si può essere neutrali nel gestire gli immigrati nigeriani sui treni dei pendolari milanesi? Si può essere neutrali nel decidere di recuperare 12 miliardi di euro dall'IVA, cosa che è necessario fare prima della fine dell'anno? Non diciamo minchiate. È chiaro che il governo, anche se verrà fatto dalla signora Belloni, non sarà neutrale. Comunque, quello è uno dei nomi che circola oggi, è il segretario generale della Farnesina, ex capo delle unità di crisi e insieme a lei ci sarebbe anche un economista, più che un economista, un funzionario della Banca d'Italia che ha salito tutti i vertici della Banca d'Italia, Tal Rossi. Speriamo che riesca a gestire l'economia un po' come ci aspettiamo noi, cioè non come sono state gestite le vigilanze sulle banche. Mettiamola così. Gentiloni diventa il leader della centrosinistra secondo Renzi, un altro degli elementi oggi della giornata politica. Il voto a luglio è molto difficile, tutti i giornali sparano contro, secondo me Lega e Movimento 5 Stelle stanno capendo che forse andare a votare con gli italiani che sono al mare in ferie, pare che siano 4 milioni, altri 12 milioni, cioè io già vedo il clima non di luglio, ma il clima dei giornali che spareranno su questa idea e dei media di sparare, di votare a luglio e di incasinare un po' una tradizione che aveva un senso se non si votava d'estate. Molto interessante il pezzo di Giuliano Ferrara oggi sul foglio che dice che Mattarella non ci rompete le scatole, non è vero che è stato un arbitro neutrale, un notaio, per due motivi molto semplici. Il primo motivo ha escluso che Gentiloni tornasse in Parlamento a riprendersi una fiducia, posto che c'era fino a ieri potrebbe continuare fino a domani, dopo domani per fare le elezioni, ma non l'ha voluto Mattarella e quindi ha fatto una scelta politica, giusta o sbagliata che sia, è una scelta politica. E poi dice Ferrara, per carità, io la vedo come una cosa incredibile, ma parliamoci chiaro, ma perché Mattarella non ha dato il mandato a Salvini, la cui maggioranza 37%, il cui quota di voti 37% è superiore a quello che ha la Merkel in Germania e che comunque come coalizione ha il numero di parlamentari superiore a tutti gli altri. E non è questa una scelta politica, quella di Mattarella di non dare l'incarico a Salvini, che tant'è, anche se in maniera educata e urbana, rivendica in un'intervista al messaggero Salvini stesso, ma perché non mi avete dato l'incarico a me? In realtà si sta muovendo tutto quanto, la partita vera di queste ore, ve lo dico io, ed è molto semplice, ne ho parlato con amici, diciamo, di tutti gli schieramenti ieri qui a Roma, è semplicissima. E cioè, sono tutti quanti alla ricerca del gesto di Berlusconi. Il titolo che mi fa urtare i nervi che fanno messaggero e fanno il mattino, Berlusconi resiste, ma resiste de che? Ma perché Berlusconi deve dare i suoi voti al governo del Movimento 5 Stelle, anche se c'è la Lega? Il governo che ha detto che è il male assoluto, il governo che ha detto che lui è un mafioso? Ma perché resiste? Mi sembra esattamente il contrario, oggi Di Maio fa un passo avanti nei confronti di Berlusconi, ma santo cielo, ma se ti dicono che sei il male assoluto, resisti a che? Nel non voler dare un voto a colui che ti vorrebbe annientare? Detto questo, io non sono così convinto, utilizzando i termini gerghi, vedendo oggi in retroscena dei giornali, che Berlusconi possa resistere per sempre e forse un'astenzione del governo, Lega, Movimento 5 Stelle, la darà, non fosse altro, e ve lo dico chiaramente, chiaro e tondo, perché sanno perfettamente a retroscena oggi di Verderami sul Corriere della Sera che la gran parte dei loro parlamentari, se si dovesse andare al voto, non verrà rieletta perché quello che succederà domani è che ci sarà un Parlamento che avrà un po' più di grillini e soprattutto molti più leghisti a danno di parlamentari di Forza Italia, questa è l'ipotesi. In questo scenario cosa succede? Faranno lo stesso governo, Movimento 5 Stelle, Lega, solo che Berlusconi e la sua pattuglia sarà ridotta e allora i suoi lo convincono e dicono già che ci siamo facciamola subito questa schifezza, perché domani se la dovessimo fare saremmo ridotti e anche, mettiamola così in politichese, meno condizionanti. Bene, questa è la situazione mi sembra sulla politica italiana, vedremo nel pomeriggio cosa succede, questa sera ci sarà Matrix, speriamo di dare qualche informazione, Trump si ritira dall'accordo sul nucleare iraniano, ovviamente per tutti i giornali è una cosa tremenda, vi ricordo che qualche giornalista, non del Corriere ovviamente, che su Trump ha una specie di pariocchio come quello che può avere, non so, Di Maio nei confronti di Berlusconi, questo è il loro equilibrio, lo vedremo in un altro caso tra poco, le sanzioni in realtà gravi come notano altri giornalisti non sono quelle eventualmente dell'America nei confronti dell'Iran per la rottura di questo piatto, ma le sanzioni e le ritorsioni che gli americani avranno nei confronti degli europei che continuano a commerciare con l'Iran, quello sarà grave per noi, avendo come nostra rappresentante la Mogherini il disastro assoluto del Renzismo in piena forma, insomma voi vi rendete conto se noi dobbiamo affidarci alla Mogherini, quella che andava velata al Parlamento di Teheran e dobbiamo prendere qua e attaccare Trump che fa il suo mestiere posto che tra l'altro le sanzioni lo stesso Obama non aveva nella sostanza non le aveva tolte all'Iran, le matite fila conquistano l'America, ve lo dico semplicemente perché ogni tanto ci lamentiamo, sul Sole 24 Ore c'è il racconto di matitine fila che comprano in un'azienda in America per 340 milioni di euro, così sfigati gli italiani non sono, soprattutto quando vanno all'estero, perché quando vanno in Italia cosa si trovano? Nella via centrale d'Italia si trova un autobus che va a fuoco e di chi cazzo è la colpa? Mai di nessuno, ed è di Marino, ed è di Alemanno, ed è c'è una responsabilità in questa città gestita coi piedi da dieci anni di PD e qualche anno di Alemanno, è sicuro, ma adesso non ci rompessero le balle la raggi, è colpa del sindaco di Roma, se a Roma non funziona nulla è colpa del sindaco di Roma, se così non fosse non li eleggiamo più i sindaci, mettiamo qualcuno che per i prossimi 5 anni faccia un tronca, il simpaticissimo tronca, il commissario che adesso diventerà anche al governo, in genere quando uno non ha fatto molto nella vita se non il commissario di Roma poi lo mettono al governo, il simpaticissimo tronca, mettiamolo per dieci anni a Roma, sospendiamo la democrazia e andiamo avanti, no, ti sei fatto leggere, t'hanno votato e mo non puoi rompere le balle se nel centro di Roma va a fuoco un autobus ed è il decimo autobus che va a fuoco, non è colpa di nessuno, come dice Rizzo, se hai cambiato quattro amministratori in quindici mesi dell'azienda, non è colpa di nessuno, non è colpa di nessuno se non c'è ancora il direttore generale, il direttore del personale in un'azienda con 12 mila dipendenti e cari dipendenti che ieri in radio mi avete spiegato che questo è un disastro eccetera, però cari dipendenti, se voi avete il tasso di assenteismo 13,7%, zitti anche voi, muti, muti, zitti, perché vuol dire che manca il manico, in un'azienda quando manca il manico non si lavora bene, non si fa la manutenzione bene, non ci sono gli orari bene, non ci sono i dipendenti beni, non c'è la pulizia bene, non c'è la discussione bene, chiaro? perché quando il manico c'è si vede e si sente, a Roma il manico non c'è, a partire dalla Raggi e a scendere in una situazione sicuramente complicata. La cosa che però più mi è piaciuta oggi è Eric Schneiderman, chi è Schneiderman? Voi avete mai visto la serie Billioners? La serie Billioners parla di un procuratore con la barba, che mi sembra Paul Giamatti, che se la prende con una moglie che lo frusta, Sadomaso e che se la prende col cattivone della finanza, il Billioners, va bene? E Eric Schneiderman è Billioners, è Giamatti. C'aveva delle amanti in cui diceva, le prendeva schiaffi, le menava, le strozzava, alcune si sentivano soffocare, poi uno diceva, ma potevi denunciarlo prima? Certo, c'è sempre questo, però insomma l'hanno denunciato dopo pochissimo. Una mi ordinava di chiamarlo padrone, ci sta, insomma, può essere un gusto sessuale, però, insomma, schiava marrone e comunque andavano all'ospedale, insanguinate. Allora, quello che voglio dire, questo Paul Giamatti in realtà era uno dei più grandi fautori del movimento Me Too, avete capito? Il movimento Me Too, questi tartufi di merda che fanno il movimento Me Too, il procuratore antitrampiano, anti... avete idea, ha fatto tutte le... volevo mettere sotto accusa Trump per le sue donne, per le puttane, puttane, pagate, mentre lui, le sue amanti, le menava, le strozzava, le chiamava schiave marroni. Lui dice, sì, ho avuto fatto dei giochi erotici in maniera consensuale, ma si è dimesso. Ma la cosa che mi diverte in questa storia della gigantesca ipocrisia americana e anche dei nostri giornali, perché è successo anche con Sfitzer, vi ricordate l'altro procuratore di New York che faceva tanto il fenomeno e poi è stato beccato a fare le chat sessuali, non è questo il tema, ognuno faccia quello che vuole. La cosa che mi diverte è che i giornali italiani, oggi vi leggete il Corriere della Sera, trattano la questione senza nessun particolare. Anzi, dicono che Persivale, oggi l'ho letto sul Corriere della Sera, che racconta la storia, racconta la storia più dicendo che adesso la reazione alla dimissione di questo procuratore Porcellone, hanno reagito, i trampiani, hanno reagito sgangheratamente. Questa è, insomma, magari forse se torno in Italia, magari troviamo anche un modo migliore, un avverbio migliore. Hanno reagito, i trampiani, sgangheratamente, no? Sono stati toccati come se fossero dei maiali, i trampiani. E poi hanno reagito sgangheratamente, scrive il Corriere della Sera, e perché avrebbero reagito sgangheratamente? Perché fanno un tweet con scritto beccato. Questa è reagire in maniera sgangherata, anzi sgangheratamente, secondo il Corriere della Sera, che è un fantastico elemento insieme al Re 3 per capire quello che non avviene negli Stati Uniti. Beccato. Tra l'altro, non dicendo nulla, mi sembra che non ci sia sul Corriere la schiava marrone. Non mi sembra averla letta questa cosa, perché poi forse sputtano un po' troppo il procuratore che loro amavano tantissimo e che al Corriere della Sera ci hanno descritto come il grande moralizzatore delle situazioni americane. Per fortuna che Glauco Maggi c'è. Glauco Maggi è un giornalista che lavorava alla stampa, che si occupa di politica estera, è completamente fuori dal coro e ci racconta insieme a Maria Teresa Cometto quello che avviene negli Stati Uniti senza le cagate politicamente corrette in che ci raccontano tutti i grandi giornali italiani. Scrive sul Libero, se volete sapere qualche cosa su quello che avviene in America, Glauco Maggi, cento volte meglio dei giornali nostri borghesoni. Vi do appuntamento questa sera, sperando che a Matrix, almeno alle 11 e mezza, si riesca a capire che governo avremo in Italia. Se vi piace questa zuppa condividete, bellissima oggi la lettera di un napoletano sul mio sito nicolaporro.it che ci spiega perché non è solo colpa dei napoletani se un altro fenomeno politico come De Magistris esiste e va a fare i trenini alle case occupate da insurgenza. E poi mi chiedo io, ma ancora si fanno i trenini? Cioè tu c'hai una casa occupata, c'hai un'università occupata, sei un ceghevarista, hai il pugno chiuso, lotti per la libertà degli italiani, tutto è minchiato ovviamente, e fai il trenino. Questa sarebbe soltanto la punizione divina che dovrebbe cadere su di loro. Chi fa il trenino non merita nessun rispetto. Un abbraccio, condividete questa zuppa questa sera. Ciao!